Ha inaugurato lo scorso 29 settembre in occasione dei primi 15.000 giorni di vita del Rossini Opera Festival. Un mese dopo, la mostra ROF 15K, allestita al Museo Nazionale Rossini, sta riscuotendo interesse e apprezzamento anche per la singolarità delle opere in esposizione. I laboratori del ROF hanno portato al restauro 24 modellini di scena di alcune delle principali opere allestite in 42 anni di festival, dal barbiere di Siviglia alla Gazza Ladra, da Guglielmo Tell al Signor Bruschino, un lungo viaggio nell'immaginario visivo rossignano in cui unire la musica del festival alla teatralità scenica dei suoi allestimenti. Soddisfatto, Cristian della Chiara, curatore di una mostra visitabile fino al 28 febbraio. Devo dire che i riscontri sono molto positivi, ci ha fatto molto piacere vedere le persone, hanno apprezzato la nostra idea di presentare il festival da questo punto di vista particolare. È una mostra che è in grado di interessare, dico molto eterogeneo, sia gli appassionati che sono tutti del festival, che trovano conferme delle loro passioni competenti in questa mostra, anche chi vive il mondo della lirica da un po' più lontano, ma che trova attraverso l'indagine e dei modellini un punto d'accesso facilitato per esplorare questo mondo veramente magico. Quindi diciamo che i primi riscontri sono perfettamente in linea con quello che pensavamo e che ci auguravamo fosse la risposta del pubblico. Quindi tanta soddisfazione e siamo certi che questo contenuto non possa che incontrare ancora il favore del pubblico in un periodo che diciamo è più favorevole per la visita ai musei, quello che iniziano in parlando, anche quando ci saranno magari le vacanze natalizie, quindi un'occasione in più per visitare la nostra città.